Ci siamo, eccoci qui con il primo ospite di questa puntata e qui accanto a me, per chi ci sta seguendo attraverso il sito Radio Pestumo Guarda la TV potrà vedere che ha con sé un organetto giusto ospite, non vorrei sbagliarmi, do il buonasera a Luigi Vigorito, Valletto di avanti un altro, buonasera Luigi, avvicinati al microfono. Buonasera a tutti quanti, buonasera, sono Luigi Vigorito di Pieggine e recentemente il 13 aprile va a letto di avanti un altro da Bonolis. Ecco, a proposito di questo, ci raccontaci un po' questa esperienza che è durata ben quattro puntate, se non sbaglio. Allora sì, è stata una bella esperienza innanzitutto perché è stato un po' per caso, andai nel pubblico e poi da questa cosa nel pubblico mi sono presentato ovviamente in tenuta cilentana e mi hanno scelto come Valletto, hanno voluto questa cosa come Valletto e da questa cosa poi insomma stanno nascendo belle cosettine qui nel Cilento ma non solo. Però vogliamo sapere un po' tutti la simpatia di Bonolis, Luca Laurelli, raccontaci un po' dietro le quinte. Allora dietro le quinte c'è un'atmosfera molto familiare, molto scherzosa, di fatti non ho avuto il minimo imbarazzo di questa cosa perché non è nulla preparato, tutto improvvisato, ogni cosa è fatta in modo molto divertente. Quindi io ho fatto le situazioni e non me ne sono accorto perché era semplice, quindi è bello. Poi hanno dato molta cosa di dialogare con loro durante le pubblicità, insomma sono scivolate le trasmissioni in modo molto semplice. Secondo te sono stati colpiti dalla tua mise, dal tuo vestiario che raccontiamolo? Sicuramente ha fatto la sua parte perché presentarsi con una paglietta da cilentano con quest'abito così sicuramente ha influenzato. Però loro vogliono i personaggi quindi mi hanno individuato come un personaggio. Io mi sento di essere un po' un personaggio cilentano in questo. È sì che lo sei. Lo sono perché nelle varie feste che facciamo come gruppo Lanternina Folk ho cercato di creare questa situazione molto tradizionale, un genere musicale itinerante però sempre con le tradizioni popolari nostre cilentane. Ecco per cui forse avrà colpito questa cosa. Ora il programma è terminato mi sembra di aver capito. Sì sono terminato. Ma nella prossima stagione che penso inizierà da settembre ti vedremo, non ti vedremo? Io credo proprio di sì perché ci sono delle belle novità, non posso dire tante cose però farò belle cose ancora. Allora aspettiamo. E invece di Luigi al di fuori di avanti un altro mi raccontavi che tu sei un insegnante. Sì io in effetti ho fatto Accademia di Belle Arti, ho studiato a Napoli, ho fatto un po' varie cose quindi insomma sono un artista tutto tondo in effetti. Ecco quindi è anche la musica, l'arte è un po' quello che mi arricchisce di più. E nei tuoi progetti futuri cosa sogni? Beh io voglio fare tante cose che sono sempre attinenti all'arte, sempre... perché no fare qualche cosa in televisione? Perché no? Perché no? Il radio come ora? Il radio sì sì e quindi ci sta già qualche cosa in televisione che sta in lavorazione. Quindi mi vedrete ancora, abituatevi. Luigi, non so se già l'abbiamo detto, da Piaggine. Sì da Piaggine. Salutiamo tutta Piaggine. Tutta Piaggine ma tutto il Cilento perché mi adorano. Quindi adoro anche io. E l'hai fatto adorare anche a Bonolis. Sì l'ho fatto innanzitutto sentire. Io ho portato come molti sanno una bottiglietta d'olio. L'olio era semplicemente questo simbolo del Cilento, di Piaggine ma del Cilento, il nostro oro giallo. Quindi lui l'ha strappato subito e è stato un momento molto bello perché nulla di preparato. Quindi doveva essere qualcosa che dovevo dare a fine trasmissione ma... Ovviamente davanti un altro non c'è nulla di scalettato perché lì è una banda di pazzi accade tutto così all'improvviso. Tutto come piace a noi, come Radio Pestum, che è tutto live. Sì è tutto live quindi è una cosa che non c'è nulla di programmato. E di fatti io sono un tipo... Nelle mie serate musicali improvviso tutto. Le battute insomma un po' che faccio... Ma a me è tutto così, deve essere tutto improvvisato. Quindi possiamo vediarti anche... Sì sì io in varie manifestazioni sono stato presente, sarò presente in varie cose. Tra l'altro spesso mi vede sui pullman accompagnare in vari viaggi insomma... Fai divertire un bel po' di gente. Beh cerco di far divertire un po' di gente e di fare pure cultura senza altro, di creare un'atmosfera molto piacevole. Insomma è un po' il mio modo di vivere così. Luigi grazie ma a proposito di arte ce ne vuoi regalare un po' della tua? Per i radioascoltatori di Radio Pestum e concludiamo così questa bellissima chiacchierata e ti ringrazio per essere venuto di persona qui negli studi di Radio Pestum. Grazie a voi e ovviamente dal Cilento, da Piaggini, ne portiamo una bella Cilentana. Ecco a voi. Io me ne voglio io allo Cilento Me la voglio bellana di Lentana Allo Cilento Me la voglio bellana di Lentana Allo Cilento